Ciao a tutti ragazzi, oggi andiamo a ruota libera, cioè 30 partite nazionali si bloccano 500-600 partite di campionato, va bene, lo sappiamo, lo sappiamo, quindi andiamo a ruota libera perché? Andiamo a ruota libera perché parliamo un po' di tutto, di tutto questo calderone, ma soprattutto di due giocatori che stanno monopolizzando un po' la questione mercato o anche la questione attenzione, uno è Ibrahimovic e l'altro è Gabigol, partiamo da chi? Partiamo da Gabigol, partiamo da Gabigol, cosa è successo con Gabigol? Gabigol viene qui a Milano, viene qui in Italia quando è troppo giovane, era troppo giovane Gabigol e allora cosa ha fatto? Si è intristito, ecco cosa ha fatto, si è intristito, lui l'aveva sempre detto a me non piace, non voglio restare qua, questo è un brasiliano dal sangue brasiliano, non vuole rimanere in Brasile, vuole giocare in Brasile, gioca col Flamengo, io già l'avevo notato dall'inizio, quasi due anni fa, che lui aveva incominciato a giocare benino, ma adesso sta esplodendo Gabigol, esplodendo in tutti i sensi, cioè segna sempre, capocannoniere del campionato brasiliano, sta andando, ah, è in finale di Coppa Libertadores, c'è tanto Gabigol nel Flamengo, il Flamengo, ho parlato con un amico brasiliano, si interessa anche lui di calcio, mi diceva praticamente che il Flamengo in questo momento è la squadra più ricca del Brasile, è assolutamente la squadra più ricca del Brasile, quindi lui dice se loro devono spendere 20-25 milioni per Gabigol lo faranno subito, non è più il Flamengo non vuole essere la solita squadra brasiliana che si fa scappare i talenti, ma quella che invece di va a prendere i talenti, è se vince la Libertadores subito vedrete che faranno il contratto per Gabigol nei prossimi due anni, tre anni, il Flamengo stanno tentando di adottare una, come dire, una politica diversa, una politica per cui dice va bene, il mondo si è globalizzato, il Brasile è sempre una fucina di elementi che esportiamo, che emigrano, basta, anche le squadre brasiliane devono essere protagoniste a livello globale, il Flamengo sta mettendo tanti soldi, sta mettendo tanti soldi, sono dei vestitori che stanno mettendo tanti soldi, e Gabigol è uno degli uomini vetrina, quindi quei 23-24 milioni con l'Inter gli hanno detto sì sì, non se ne parla neanche, te li diamo e buonanotte, e per l'Inter se non sbaglio, se ho fatto bene i conti, dovrebbero essere qualcosa come 12 milioni di Splus Valenza, ben per l'Inter, ben per l'Inter, questo per quanto riguarda Gabigol, ma parliamo un po' di Ibra ragazzi, insomma dove va Ibra? Al Bologna, al Milan, lo danno in Spagna, lo danno ovunque, lo danno a fare il posteggiatore all'Ikea, ovunque, Ibra lo danno ovunque in questo momento. Adesso la gazzetta esce fuori con la notizia che la moglie, che la moglie preferirebbe Milano, l'ho sempre detto, attenzione, quando si parla di mercato, di calciomercato, le mogli la fanno da padrona, perché alla fine si deve spostare tutta la famiglia, quindi non è che Ibrahimovic dice vabbè decido vado a Bologna, no no, tu decidi, vai a Bologna con tua moglie, se è vera la storia che la moglie vuole andare a Milano, allora Ibrahimovic è già rosso-nero. Ora io non voglio entrare nello specifico di cosa può dare Ibra al Milan, ma voglio entrare nello specifico di cosa può dare Ibrahimovic alla Serie A. Divertente, io spero che torni, spero che arrivi, ovviamente vederlo al Milan, è un po' più pesante che vederlo al Bologna, è chiaro, vederlo al Milan sarebbe divertente, perché Ibrahimovic i suoi colpi ce li ha, ha i colpi fantastici, è un giocatore proprio unico nel suo genere. C'è un punto, e l'ho detto anche questo, per chi mi segue, per gli affezionati, affisionados di questo canale, c'è un punto, come stai Ibrahimovic davvero, perché due anni in America non sono due anni in Europa, non l'hai avuto sott'occhio, oltretutto i difensori americani della Major League non sono i difensori europei, va a giocare in Germania e va a giocare in America e vedi la differenza, come di corsa, va a giocare in Inghilterra, Premier League, c'è una differenza anche col campionato italiano, ma anche il campionato italiano stesso, però, però, questo si sa, però è sempre Ibrahimovic, però è sempre Ibrahimovic, se andate a vedere i gol di Ibrahimovic è forte, è forte, è un fuoriclasse, è un fuoriclasse, vederlo al Milan sarebbe bello, sarebbe bello per tutta la Serie A, per tutta la Serie A, vedete quando arriva un campione, quando arriva Ronaldo, quando arriva Rabiot o Ramsey, si va bene, vanno nelle squadre avversarie, però per la Serie A è bello, per la Serie A è bello, e lo spettacolo è bello, l'Italia, il campionato italiano, quello che vince tanto, vince tante coppe, era un campionato con Zico, Socrates, questo è un po' che più grandetto se lo ricorda, Zico, Socrates, Leandro, c'era tanti di quei giocatori che, Junior, Sereso, tantissimi giocatori che venivano qua, e l'Italia vinceva, così come sta facendo l'Inghilterra, ma a prescindere da quello, c'era un calcio che ancora ci ricordiamo, noi non ci ricordiamo il calcio degli anni 90, ma quello della fine anni 80, no, della fine anni 90, comunque, a prescindere, quando arriva un giocatore forte, e questo può essere Ibrahimovic, è bello da vedere, è bello da vedere, è bello da vedere, è bello anche lo scontro tra difensori e Ibrahimovic, il punto è, non so Ibrahimovic come stia, non so come sta, comunque, con il Milan, nello spogliettoio, Ibrahimovic è sempre un qualcosa di carino, c'è Piontek che dice che lui vale 60-70 milioni, o vuole valere 60-70 milioni, credo che più di una persona abbiano alzato il sopracciglio, quanto, penso a segnare, e via. Altri giocatori, sarebbe tanto da parlare di Icardi, che sta facendo bene, anche Perisic sta facendo bene, stanno facendo tutti, Joe Amario, un grandioso, in Portogallo, a quanto pare, ed è sempre lo stesso, lo stesso refrain, quando trattieni un giocatore che non vuole restare, fai male, fai male al giocatore e fai male anche alla squadra, io penso a Milinkovic e Savic, hanno voluto trattenerlo quando potevano buttarla lì sui 60 milioni, perché no, ne vale 100-110, vedi un giocatore triste, sono giocatori tristi, se vogliono, se il matrimonio deve essere fatto in due per le squadre, la giocatore che vuole rimanere e la squadra che vuole col giocatore, se ci sono le due cose, bene, se no, altrimenti è meglio lasciarli andare, questo per esempio penso a che sì, o altri giocatori. Detto questo era un riempitivo, io ragazzi mi sto curando il canale internazionale, quell'inglese, e oggi devo cucinare. Oggi mi hanno chiesto, mi hanno chiesto, sì, dall'America, comunque devi cucinare, devo cucinare, perché adesso lo faccio ingrossare così, più cucini, più fai ricette, altro che, con tutto rispetto, altro che YouTube Calcio Italia, ma YouTube internazionale puoi raggiungere anche i 700-800 mila, 300 mila, 200 mila, quelli che sono, poi devo cucinare, sono bravo, sono bravo a cucinare, solo che cucino, quando cucino, cucino per i miei fatti, adesso devo mettere là tutta l'apparecchiatura, la telecamera, eccetera, eccetera, per cucinare, si cucina, si cucina. Ragazzi, detto questo, detto questo, sta arrivando un super sabato, ne parliamo domani, un super sabato. Ragazzi, iscrivetevi, state diventando sempre di più, io vi ringrazio, perché secondo me il mio canale è il canale più elegante del calcio, ma non per me, ma per voi, per voi, perché io vedo i vostri commenti, sono sempre commenti puliti, carini e intelligenti, di gente informata, mi piace, mi piacete, un bacio a tutti, ciao ragazzi!